All'Istituto Cesaris di Casal Pustellengo, questa mattina ha inizio la maturità. Dopo tanti mesi di attesa e di chiusura, finalmente la scuola riapre, riapre con un appuntamento importantissimo per i ragazzi, uno dei momenti più importanti della loro vita, l'esame di maturità. Una maturità che però hanno già dimostrato, in buona parte, in questa fase di lockdown, in cui i giovani sono stati davvero messi alla prova. Gli è stato chiesto di essere indipendenti dello studio, di avere pazienza e di avere speranza. Oggi il loro banco di prova finale. Questi ragazzi si trovano ad affrontare un esame di maturità totalmente diverso da come se lo aspettavano, quindi si può definire in qualche modo un esame a sorpresa. Ma questa giornata è davvero importante anche per tutto il personale, docente e non docente, che in questi mesi così difficili ha comunque portato avanti l'esperienza scolastica.